Centro 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 Un tiro Arcao Venite da dentro C'è anche l'assistenza del papà Guarda, allora, ce l'hai? Dov'è il rosso guano? Ok, la mano è di sui Sì, aspettate Spera 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 Allora, Gigi Gigi Ho detto che il gol Tu l'hai fatto anche A weren't D- c'è un postiere da una squadra nobbede inglese che gioca a quel gol ah gioca uuu fuori sempre due metri niente ande Carlo poi è durissimo quello c'è vai centro alla tua sinistra è ormai questa nobbede inglese no no la palla la vedi da sempre ok ok tutta la palla tutta la palla dov'è? ok parto di scelta per chiare perchè hai vinto dov'è eh spaglia tira bella 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 alla tua sinistra Carlo più forte perci va eeeh basta uuuu la palla è una cosa che c'è di mettere a posto una palla bravi grazie